Siamo già campioni E allora Ciudice pensa E può confundere già una prima selezione I cani che vedete al cielo sono i cani selezionati Un ringraziamento ai cani che ovviamente hanno applaudito per la loro presenza Non è una sconfitta Già la giornata per loro è stata Ricca di gloria Perché si è venuta a loro E non è una giornata per loro Anche se la partecipazione è sempre fatto sportivo E' un fatto quantificante anche per l'attestamento del soggetto E poi il piacere di dire che una giornata ce l'ha Tutti insieme Siete ad altri E ovviamente con un figlio hanno la stessa passione Questo è brutto il passato Questo è bello E non è sempre stato Grazie.